Ciao a tutti amici di AppFeed Review Oggi andiamo a parlare di un'applicazione per Android Più che un'applicazione è un widget Sto parlando del widget 3 Pro Disponibile sul market al prezzo di 1,59€ Questa è la pagina dell'applicazione E andiamo subito a vedere come funziona Allora una volta installata l'applicazione Ovviamente essendo un widget non potremo aprirla Ma dovremo andare ad aggiungerla ad una pagina Al solito tappata tenendo premuto sullo schermo Andiamo ad inserire un nuovo widget E come vedete compariranno qua sotto queste 4 icone Che saranno le varie dimensioni del nostro widget Avremo la 1x1, 1x2, 2x1 o 2x2 Andiamo a scegliere ad esempio la 1x2 E come vedete ci segnalerà dove andrà a posizionarsi Se invece andiamo a prendere per esempio la 2x2 Allora occuperà uno spazio così Una volta che abbiamo posizionato il widget Ci verrà chiesto di scaricare le soglie Quindi il telefono praticamente si connetterà al sito della 3 E al portale 3 e scaricherà le soglie E poi vostra fare visualizza soglie Ok, qui praticamente alla schermata potremo andare a visionare tutte le nostre soglie Per esempio il nostro credito Quanti chiamate, voci o videochiamate ci mancano nella nostra soglia Quante per esempio traffico abbiamo effettuato della opzione super internet Quanto traffico ci rimane ancora E così via Noi praticamente basterà che selezioniamo Il... come si dice La soglia che vogliamo andare ad aggiungere al widget E clicchiamo aggiungi al widget Dovremmo andare a inserire un nome Quindi qui clicchiamo per esempio Guardiamola qua Traffico rimanente Ok Diciamo salva E praticamente lui avrà aggiunto al widget anche il traffico rimanente Una volta che abbiamo selezionato tutte le nostre soglie che vogliamo visionare Clicchiamo sul tasto indietro E come vedete comparirà a schermo il nostro widget Clicchiamo Adesso si sta aggiornando con le soglie E come vedete Diciamo compare a schermo direttamente tutte le nostre soglie che abbiamo selezionato in precedenza Traffico Ovviamente questi sono i nomi che gli ho dato io Traffico Chiamate Super internet Traffico rimanente Se andiamo a tappare sul widget Potremmo andare ad aggiornare le soglie E quindi andare a vedere se è cambiato il credito Se sono cambiate le soglie Andare a modificare l'aspetto Come vedete possiamo andare ad ingrandire il font Possiamo andare a scrivere un po' più grande Andare a cambiare il colore della scrittura Per esempio mettiamolo in nero E cambiamo il colore dello sfondo Mettiamo il bianco Salva configurazione Aspettiamo che si modifichi E come vedete Siamo riusciti a cambiare E' diventato un po' più grande E siamo riusciti a cambiare il colore dello sfondo Quindi comunque è un widget abbastanza personalizzabile Poi potremmo andare a visionare Le notifiche Per esempio Sul traffico internet Possiamo aggiungere una notifica E praticamente che ci darà un avviso Se questo valore Per esempio è maggiore o minore Di qualcosa Quindi per esempio Se abbiamo la super internet Che sono 3 giga Potremmo mettere una notifica A raggiungimento dei 2 giga e 7 Quindi magari ci viene detto Che mancano solamente 300 mega di traffico rimanente Ad esempio Questa è una cosa molto molto utile Poi possiamo andare a visionare Le soglie mobile e le soglie web Direttamente dall'applicazione E possiamo anche andare a visionare L'area clienti mobile e l'area clienti web Direttamente da questo widget Quindi secondo me è un widget Assolutamente indispensabile E utilissimo per i clienti 3 Appunto perché riesce a Far vedere Diciamo subito all'occhio Tutte le nostre soglie In una maniera veramente semplicissima Questo simbolo qui in alto a destra Vuol dire che adesso non è riuscito A aggiornare le soglie Quindi ogni tanto Magari sia per problemi del portale 3 Che ultimamente Beh ultimamente no Però qualche tempo fa Ha avuto un po' di problemini Non si riuscivano a vedere le soglie Adesso comunque Vedete ha dato quell'errore Quindi quando ci sarà un errore Verrà fuori il punto esclamativo Ok Ripeto Questo widget è disponibile Sul market A 1,59 euro La recensione si conclude qui Noi ci risentiamo Alla prossima Ciao Ciao